Abbiamo lanciato 500X creando un cortometraggio come nostra tradizione. L'anno scorso abbiamo lanciato il film di Brody per il sessantesimo anniversario della 500. Quest'anno abbiamo creato un film ispirato alla famosa saga Ritorno al Futuro, peraltro con la presenza anche del famoso attore americano Christopher Lloyd che nel film interpretava Doc. Ci è stata molto utile perché attraverso questo film abbiamo potuto spiegare con alcune scene cult del film tutte le novità e le features di questo nuovo prodotto. In questo contesto cinematografico il posto migliore dove presentare la vettura alla stampa ci sembrava appunto il Museo del Cinema all'interno della Molla Antonelliana qui a Torino, che peraltro è un posto magico in cui il confine tra realtà e fantasia è davvero molto sottile e è molto sottile anche il confine tra passato e futuro.